Paolo Mangiacapra, questo è stato il tuo esordio con la nazionale maschile di City in Volley da titolare. Dicci com'è stata questa tua esperienza da sordiente e un commento su questa partita che purtroppo è stata persa 3-0 con la Cambogia. Per me è stata molto emozionante perché è la prima volta che entro come titolare in una partita molto importante e anche se abbiamo perso, però noi ci abbiamo messo tutto il nostro. Loro sono stati un po' fortunati su alcune palle che andavano di là. Possiamo fare molto di meglio perché noi non siamo questi, siamo molto più forti di come abbiamo giocato oggi e spero che le prossime partite le affrontiamo con più spirito e facciamo più squadra di oggi. Grazie.